e direi che qualcuno prima ha detto che l'obiettivo del convegno era quello di darsi ai cittadini qualunque, io oggi mi sento un cittadino qualunque non esperto di filosofia e devo dire che è veramente un qualcosa che mi ha molto appassionato per questa mattina e che sarà testimonianza per me da portare poi nell'ambito del mio lavoro. Sì, io ho a che fare tutti i giorni con il dolore, anche questa notte per dire che ero vicino a una famiglia che stava vedendo il suo familiare esalare gli ultimi respiri e quindi sia io, come ci è stato detto, tutti abbiamo il dolore che è una parte importante, anzi che non elimineremo mai nella nostra vita e anche però ho a che fare con coloro che tutti i giorni vengono a raccontarmi il loro dolore. Ecco, prima di tutto io tengo a precisare una cosa, il mio approccio è un approccio non verso il dolore né verso il paziente ma io sento verso colui che è sofferente, colui che un po' io immagino sempre come Dante che si è perso nella valle scura, il dolore è qualcosa che ti capita quando o meno te lo aspetti e quindi il mio approccio verso queste persone dovrebbe essere, almeno io lo sono sempre posto come obiettivo del vergilio della situazione che aiuta questa persona a uscire fuori, a rivedere le stelle e quindi è una, se volete, anche presunzione perché come è stato detto prima, il dolore non è che poi si vengono sempre le stelle però sicuramente un accompagnare la persona ad affrontare il proprio dolore e allora nell'ambito della relazione è importante prima di tutto entrare in empatia, entrare in comunicazione con queste persone il nostro lavoro, un po' perché si è sempre tanta fredda, un po' perché si è abituati a ragionare per schemi, per settorialità non si riesce a mettere al proprio agio, ed è quello che invece mi impongo e cerco di fare nel modo che posso, a mettere al proprio agio il paziente il proprio agio vuol dire in tanti modi, innanzitutto dal modo di parlare, dal modo di rapportarsi è chiaro che rapportarsi con l'anziano è diverso rapportarsi con il giovane e questa duttività, questa capacità di modificare anche i linguaggi in modo di farsi spiegare le cose secondo me è molto importante per entrare in empatia e per far aiutare effettivamente questa persona ad affrontare il dolore e quindi poi il passaggio chiaramente rispetto a me, l'obiettività, cioè la manualità, l'obiettività è importante per saper distinguere quello che è già stato detto, il dolore fisico dal dolore psicologico il dolore fisico su quello sicuramente nella medicina moderna c'è andato a tanti mezzi abbiamo tante possibilità, abbiamo dei farmaci, però nella pratica quotidiana effettivamente vediamo che questo dolore fisico è modulato, è quasi cambiato tante volte dal dolore psichico e allora questo lavoro che dobbiamo fare però insieme, cioè medico e paziente per capire e saper distinguere quanto posso meglio fare dal punto di vista scientifico, medico, con le medicine e quanto invece possiamo lavorare sull'aspetto psichico o comunque sul fatto che il paziente stesso dovrebbe pian pianino attraverso chiaramente anche l'aiuto mio capire quanto c'entra l'aspetto psichico e quanto l'aspetto fisico è Grazie.